Ho improvvisamente cominciato a leggere questo tempo. Supponiamo che durante la spedizione al volo, no? Io sia costretta a rimanere qualche anno in quelle regioni. Non mi lasceranno volare dall'ambiente che mi circonda? Dieci passi da un cavo all'altro della mia cella sono già qualcosa, moltiplicati per centocinquanta sono migliore. Mi sono proposta di camminare ogni giorno cinque miglia, due al mattino, due dopo pranzo e una prima di andare a dormire. Dobbiamo reagire alle norme che sempre più restringono lo spazio in cui dobbiamo muoverci, per gusto che sia, e tradurle in piccole realtà. Se rimanessi rinchiusa in una cella stretta e vedessi passare una nuvola davanti alla piccola referiata, Ti porterai quella buvola, mio Dio, sempre che ne abbia un momento di appazzono, mi ritrovo sul petto brudo della vita. Non si può essere nelle prime tie, così dolce e protettive, e ci tornano, e battite le pleite, prima del mio bello. Così lento e regolare Così dolce Come se non dovesse arrestarsi Mai Uno spazio Che potrebbe forse definirsi Un picco d'anima Vorrei dipingere Poche parole Sono scollo muto Fatto di Dio Vita Morte Eternità Parole Che si devono dimenticare Di nuovo Bisogna Tornare così semplici Come il grano Che cresce La pioggia La pioggia Che tale Bisogna Semplicemente Essere So Quello che capita E la mia testa Rimane lucida Vado a fondo Vado a fondo Ma dentro di me Da qualche parte Continua a crescere Continua a crescere Indisturbato Disturbato Non credo di avere dei nervi d'acciaio Credo anzi Di avere dei nervi Piuttosto sensibili Però Sono in grado Di Resistere Resistere Di avere dei nervi d'acciaio 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 Di avere dei nervi d'acciaio